Un paese meraviglioso, con competenze uniche al mondo, ricco di piccole e medie imprese ed eccellenza, nell'arredamento e nel design, la cui sfida più grande è evolvere e competere in un mondo sempre più frenetico, digitale e globale. La soluzione è una concreta innovazione del rapporto industria-finanza. Un progetto di investitori privati, a supporto della realtà industriale, con una visione al servizio dello sviluppo di lungo periodo. Un nuovo modo di fare impresa. Il gruppo è composto da aziende medio-piccole, ma grandi persone, testimoni dell'eccellenza e dell'artigianalità italiana. Una struttura in cui ciascuna azienda può accelerare lo sviluppo. mantenendo intatta la propria identità. Piccole realtà che beneficiano di grandi opportunità. L'imprenditore, seppur indipendente, non è più solo, ma socio di un progetto di più ampie dimensioni, dove la condivisione è lo strumento chiave. La piattaforma offre le vitamine per la crescita, strutture e strumenti per affrontare mercati competitivi nel rispetto del patrimonio creativo, ove necessario affiancamento per affrontare passaggi generazionali. IDB è una guida sicura verso uno sviluppo globale, per creare valore e non solo ricchezza. Un innovativo progetto integrato di design strategico e dei servizi, che in pochi anni ha raggiunto grandi risultati e che continuerà a crescere. perché è una collana e molto di più di un semplice insieme di perle.